In controtendenza rispetto a quello che accade nel resto del Paese, i dati e i numeri dell'attività svolta dall'arma dei carabinieri nell'ultimo anno e precisamente nel periodo che va dal 1 maggio 2014 al 30 aprile 2015 mostrano un calo dei reati commessi, in particolare rapine e furti. 32 le rapine commesse nell'ultimo anno a fronte delle 36 dell'anno precedente. Calano anche furti 2234 rispetto ai 2681 del precedente anno. Fondamentali controlli e l'attività di prevenzione grazie alla gestione capillare delle risorse sul territorio, così come è fondamentale, ha precisato il colonnello Andrea Bertozzi della Zonca, comandante provinciale dei carabinieri di Campobasso, la collaborazione con il cittadino a cui va riconosciuto un alto senso civico. Possiamo essere soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda i reati contro il patrimonio. Certo è da dire che questi risultati non si potevano conseguire se non ci fosse stata una serie di attività. Sicuramente attività di coordinamento delle risorse dell'arma nel territorio, tra le stazioni, ma soprattutto sinergia anche con le altre forze di polizia. C'è stata un'eccellente sinergia sia con la Polizia di Stato e con la Guardia di Finanza e questo ha contribuito fortemente al conseguimento di questo risultato complessivo. Non ultimo, la collaborazione da parte dei cittadini. Dalla nota operazione Chiavetta Magica, condotta in basso Molise, che ha portato all'arresto di 15 persone all'attività di indagine, che ha permesso di assicurare alla giustizia i due responsabili della rapina alla banca BNL, commessa nell'ottobre 2014, passando per l'arresto a Campobasso di Marco Castiello, 76enne di Afragola, che sparò i vicini di casa, ferendo 8 persone. Il colonnello della Zonca ha ripercorso le principali operazioni condotte con successo, quanto ai reati contro la persona da segnalare 4 tentati omicidi, un omicidio volontario e vari episodi di violenza di genere e stalking. Contro la persona, a parte un caso di omicidio, l'omicidio della porta, che conosciamo molto bene, abbiamo avuto 4 casi di tentati omicidio rispetto all'anno scorso in leggero aumento, legati prevalentemente ad aspetti di carattere passionale, o comunque che rientrano a carattere generale nel fenomeno della violenza di genere, all'interno delle famiglie, all'interno dei rapporti di coppia. Questo è l'aspetto, diciamo così, sociale che emerge. Sbagliato parlare di infiltrazioni malavitose organizzate presenti sul territorio, ha tenuto a precisare il colonnello. Ci sono stati e ci sono tuttora fenomeni estorsivi, ma ancora una volta la sinergia tra le varie forze dell'ordine e la collaborazione con il cittadino si confermano un binomio vincente a contrastarli.